TQQ, sono in 15 cavalli che entreranno nei nastri di partenza, Zinfandel numero 15 specialista e il favorito sotto la pari. Cavalli che sono qui vicino ai nastri di partenza, è buono il primo segnale con il numero 6 di Akirba e Brid che li buca tutti sul galoppo del numero 1 di Velletri Jet, in seconda posizione vediamo il 2 di Venezia TRGF che poi galoppa, è partito bene il 4 di Zenigata che insiste su Akirba e Brid, in terza posizione si sistema il numero 5 di Sirio Di No, è passato Zenigata mentre Akirba e Brid probabilmente chiederà il cambio al Battistrada che passa i 400 in 31. Akirba e Brid che si presenta su Zenigata e dopo 600 metri è il nuovo leader. nei confronti di Zenigata in terza posizione vediamo sul calo di Sirio Di No, c'è Zarda per linee esterne, Zinfandel che anticipa Zarda ed è il primo scoperto a largo, il favorito della corsa Zinfandel che qui davanti alle tribune va a far aumentare un po' l'andatura, si giunge a un chilometro passato in 17 con Akirba e Brid che controlla Zenigata in seconda posizione, poi vediamo nelle prime posizioni anche l'11 di Volo di Argal, si avvicina Zarda per linee esterne e Zinfandel ora attacca con più vehemenza Akirba e Brid a palo lontano, a largo di tutti c'è sempre Zarda, poi vediamo Volo di Argal, si avvicina anche Cerbero e le Zeta, si giunge sul finire dell'ultima curva con Akirba e Brid che scappa mentre si avvicina Volo di Argal ed è pericoloso perché davanti se le sondate e Volo di Argal li prende un poco in crisi, si avvicina Cerbero e le Zeta per linee esterne, occhio perché anche l'allievo di Convertini è della partita, in retta d'arrivo Akirba e Brid, Zarda e Cerbero e le Zeta, poi Zarda, cavalli a cento dal palo con Akirba e Brid e Volo di Argal a darseli di santa ragione, ma Akirba e Brid, Argina, Volo di Argal, terzo e numero 8 di Cerbero e le Zeta e quarto e Zarda. Andiamo a rivedere le immagini perché per il quinto posto arrivano arrivano vicino diversi cavalli, allora 6, 11, 8 è la Tris, 6, 11, 8, 12 è il quartè, 6, 11, 8, 12, 16 è il quintè. Quindi Vincenzo D'Alessandro timbra l'ultimo in programma con il numero 6 di Akirba e Brid, secondo è il numero 11 di Volo di Argal, attenzione perché terzo è arrivato un cavallo di grossa quota, Cerbero e le Zeta con Convertini che farà sicuramente salire le quote in tutti i sistemi, quarto una grande Zarda e quinto il numero 16 di Brilliant BKS. È tutto dall'ippodromo di Castelluccio De Sauri, linea alla regia.